Buongiorno, sono Monica Costu, sono professore ordinario di diritto commerciale nell'Università di Sassari, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali di SEA. Sono quindi una giurista. Il diritto, e il diritto commerciale in particolare, è una materia viva, in continua evoluzione. Tra le altre cose il diritto commerciale studia l'impresa, il suo funzionamento, le regole che consentono di far nascere e crescere le imprese, studia i contratti che ne assicurano il finanziamento e ne prevengono la crisi. In questo momento uno dei miei ambiti di ricerca sono le start-up innovative, società che producono beni e servizi ad alto valore tecnologico per creare occupazione e sviluppo.